Il Capitano, il Capitano, che sono un Capitano Il Capitano, il Capitano, il Capitano Noi, 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 noi. Grazie a tutti. Abra! Grazie a tutti. 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 ... un grande capitale e la cortina la reggiana Baggio ancora Baggio l'unico è messo giù Baggio cacciare con testo e la torre 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 Baggio è uno stava peggiori fortunato con terra qui calcia sopra la promessa Ramonelli 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 al limite un gioco di 1-0 Ramonelli 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 1-2 subito Mettino Mello prende giocata in area con quel fantastico 2-0 di Juve Ramonelli Ramonelli andrò Corate la Juve arriva al limite e si cortina Baggio e con sinistra con il gioco del transeo